mai senza monge natural super premium le crocchette made in italy con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro ben ritrovati a tutti buongiorno da radiosso nera è l'ultimo mattino milan di questa settimana perché è venerdì 19 maggio del 2023 domani si torna già in campo c'è milan sandoria alle 20 45 e quindi terz'ultima di serie a enrico boiani ciao ciao buongiorno ben ritrovati buongiorno terz'ultima di serie a che quindi chiama anche un po i primi discorsi di calcio mercato oggi sarà quasi una sorta di obbligo di riscatto quasi di anticipazione di quello che potrà essere l'appuntamento che dal 4 5 oddio adesso non mi ricordo esattamente quando è lunedì dopo il campionato diventerà si trasformerà mattino mila in obbligo di riscatto quindi che prima di partire con le questioni di mercato che ovviamente riguardano i primi primi giocatori accostati al milan anzi più che accostati in alcuni casi direi di chiudere queste ultime 48 ore post eliminazione champion league con qualche parolina o in virgolettato o non in virgolettato di troppo che è girata tra tv giornali eccetera eccetera mi fermo qui la chiudiamo prima di fare tutto un mese di giugno spero che diciamo così abbiamo fatto una sorta di remix dell'anno scorso in 48 ore l'abbiamo chiusa qui spero sembra che si sia capito che non è il momento né la cosa giusta da fare io me lo auguro anche perché saremo sempre la c milan cioè non la squadra di terza categoria in cui succedono magari dal punto di vista mediatico o dal punto di vista della gestione comunicativa cose di un certo tipo ecco siamo sempre il milan e certe cose non dovrebbero succedere quindi la speranza è quella che che si archivi tutto e che si archivino queste ultime diciamo 48 ore e che si possa tornare a lavorare seriamente senza troppi drammi senza troppi problemi senza troppi intralci senza troppi litigi senza troppi attacchi e quindi che si possa che si possa come dire riprendere quanto di buono perché comunque in tutto ciò del buono c'è e c'è stato in questi anni quanto di buono è stato fatto e si proverà a continuare a fare anche perché hanno parlato tutti ma nessuno ha chiesto il parere principale cioè quello dei giocatori e ieri mi sembra che qualcuno si sia espresso perché alla fine i giocatori comandano spesso e volentieri non sempre magari una volta non è nemmeno giusto ma poi in campo ci vanno loro e in parte quindi comandano ma tant'è andrei avanti caro Enrico Boiani io partirei con gazzetta dello sport di oggi che anche lei si lancia un po sul mercato al centro del Milan nel mezzo si cambia l'off to cheek si costa 25 milioni per me no ma dopo ne parliamo kamada piace diazareste in bilico sono giorni di gente in bilico al centro del Milan quindi nel titolo di gazzetta sulla spalla di sinistra invece ci sono tre che in bilico secondo gazzetta sono un po' meno perché sarebbero in uscito vero Yasin Adli Timu e Bakayoko perché siamo arrivati agli ultimi 20 giorni circa 15-20 giorni dalla milanista e a Sir Franks che anche lui è in prestito e quindi in teoria finendo il prestito tornerebbe al Polsburg sì ora io partirei da quello che mi sembra un po' più diciamo così sostanzioso cioè Deichikamada che tra l'altro ha un procuratore che con l'Italia ha molto 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 a che fare perché praticamente quasi tutti i giapponesi che sono arrivati in Italia tranne Onda che se non ricordo male è un procuratore di se stesso ma o giù di lì il procuratore dei giocatori che sono arrivati dal Giappone li ha portati sempre tale Roberto Ta aspetta che te lo vado a recuperare perché il nome è un po' complicato ma i Nakamura, i Nagatomo diciamo ovviamente non è che stiamo parlando di fenomeni epocali però i giocatori però i nipponici in Serie A se sono arrivati in Serie A sono passati da lui sono arrivati con lui quindi anche anche in questo caso sarebbe sarebbe così è un giocatore Simo che a me non fa mega impazzire cioè se mi dici il colpo del Milan dell'estate è Kamada o Kamada scegliete voi un pochino come come chiamarlo non è che mi strappo le vesti non sto poi a dire Yuku che bello però ti dirò se deve andare a coprire il posto di Diaz a titolo gratuito perché gli scade il contratto quindi come buon ripiego come titolare in alcune partite quando magari devi fare un po' di turnover come alternativa in tre quarti o come usato sicuro in tre quarti perché comunque già qualcosina line track l'ha fatta vedere allora ti dico va bene ok gli acquisti io li valuto e li baso come sempre in base a quello che è il mercato se mi comprano due centrocampisti e una punta da 20 gol Kamada che sostituisce Diaz è e benvenga che lo sia addirittura una cosa in più ok poi se invece Kamada deve essere l'acquisto non dico di punta ma uno degli acquisti più importanti in termini di rendimento del prossimo mercato dove magari prendi un solo centrocampista dove magari per la punta non sai cosa fare allora il senso è un altro quello che voglio dire che è un giocatore che come vediamo gioca tanto a tanti gole assist per quello che è il suo ruolo per quelli che sono i suoi standard qualitativi però ripeto valuterò e valuterei il suo eventuale arrivo se tanto se viene coadiuvato e corroborato da tutto l'intorno di quello che serve al Milan che è molto di più di Kamada quindi vabbè ma certo ma adesso stiamo parlando di campisti benvenga Kamada per stare al posto di Diaz io lo prendo volentieri onestamente è gratis tra virgolette non devo mettere niente di cartellino poi il mercato lo valutiamo alla fine lo valutiamo il 2 di settembre adesso che si muovono i parametri zero perché si muovono adesso anzi in teoria si sono già mossi va bene così cioè ma in una rosa che quest'anno abbiamo visto soprattutto per il giocatore 15 16 17 18 eccetera di qualità di esperienza in parte anche di fisicità non ne aveva mettere dentro il Kamada per me basta e avanza per per quel tipo di ruolo ecco ti dico non per fare il titolare inamovibile del Milan quello no però sì sì no ma anch'io me lo prendo ma il punto è sempre quello Simo cioè io me lo prendo se poi ne vengono presi altri in altri ruoli cioè perché l'anno scorso eravamo qui a dire io questo me lo prendo e poi sei rimasto col cerino in mano abbiamo detto Messias viene preso per parare diciamo per per coprire il ruolo poi vediamo cosa fare con l'esterno destro e sei rimasto con Messias in mano cioè io questi giocatori me li prendo se però il resto del mercato è di un certo livello perché se gli acquisti di punta devono essere di questo mercato Kamada e Loftus Chic ripeto con tutto il bene poi possono esplodere possono diventare il trequartista più forte della Serie A e il centrocampista più forte della Serie A però non ci siamo per quanto mi riguarda come detto cioè dobbiamo aspettare cioè in questo momento non lo puoi sapere ecco tutto qua no è chiaro che non lo puoi sapere io stavo parlando in ottica di proprio di mercato perché li conosco i miei polli io li conosco i miei polli ho imparato a conoscerli i miei polli negli scorsi mercati e il budget non sarà pioggia di milioni da lanciare per il mercato giusto quindi non so più che altro avremo parecchie cose da fare con ogni probabilità oh bravo bravo e soprattutto se vuoi prendere una punta consistente e di milioni lì ne vanno via consistenti appunto bravo bravissimo vedi allora quindi in quest'ottica io ti dico benvenga l'acquisto di Kamada che è un giocatore discreto soprattutto se dovesse prendere la casellina di Diaz ok benvenga sono contento e sarò anche curioso di vederlo nel campionato italiano però io ripeto quest'estate e quest'anno sul mercato spingerò e sarò molto esigente e molto cattivo benvengano questi acquisti qui è un obbligo di riscatto interessante perché ti avviso anche a te che farai benvengano questi acquisti qui però bisogna fare quest'estate bisogna spendere e bisogna sistemare bisognava comprare e vendere saper vendere anche nel caso vendere a proposito di vendere perché qui il cartellino invece non è gratuito perché il contratto di Love to Cheek prevede il 2024 come anno di scadenza quindi ancora un anno col Chelsea ce l'ha e quindi se lo vuoi lo devi comprare questo ragazzo qui come detto Gazzetta ha messo oggi sulla sua diciamo così il prezzo come 25 milioni ha un anno solo di scadenza per me è qualcosina meno lo porti via però al di là di questo è un giocatore diverso tra l'altro vedo che il procuratore è un procuratore che ogni due per tre bazzica con noi al contrario di Kamada ha giocato meno non tanto per una questione fisica perché ho visto ha avuto soltanto un problema al polpaccio che l'ha tirato fuori da 3-4 gare niente di eccezionale comunque più per scelta tecnica ma d'altronde il Chelsea sono 750 giocatori quindi ci può anche stare è un giocatore che fa più del rendimento che dei numeri avete visto insomma il suo punto di forza non è da lui che nel caso andiamo a chiedere gol e assist a lui chiediamo molta più fisicità rispetto a quella che abbiamo avuto quest'anno chiediamo un tipo di lavoro che quest'anno ad esempio non abbiamo quasi mai avuto con la sorte del centrocampista box to box che ogni tanto qualche volta ha fatto Sandro Tonali ma poche volte tipo ad esempio con lo Spezia che quando perde il palo o quando mette Diaz in porta con l'Inter però tutto sommato sono azioni un po' sporadiche però con un tipo di fisicità un tipo di giocatore lì quest'anno non ce l'abbiamo mai avuto guarda qui faccio prendo i tuoi panni caro Henry Kamada con il nostro centrocampo meno Ismael Benaserra ancora non basta per quanto mi riguarda per quello che penso possa essere il centrocampo anche perché Kamada quest'anno ha fatto anche il centrocampista però vederlo giocare a due che so insieme a Tonali metti Kamada fa il centrocampista in quello che è il nostro centrocampista in tre quarti credo che sia di quelle caratteristiche lì e sia un acquisto anche azzeccato in questo senso molto più di Etelar per dire come concetto di giocatore in quella posizione lì Loftus Cic va a prendere la casalla di Kessi chi prende quella di Benaserra a questo punto Loftus Cic secondo me ha le caratteristiche fisiche e tecniche per essere uno dei centrocampisti più dominanti del nostro campionato poi serve una cosa innanzitutto ne servono due cioè ne servono tante ma principalmente ne servono due a che giochi e che venga schierato nonostante sia un nuovo acquisto perché c'è questa cosa che quando compri un giocatore lo puoi anche schierare in campo nel tuo undice della formazione seconda cosa che si ha un po' autoconvinca di poterlo essere perché ha le caratteristiche fisiche e tecniche veramente da calciatore forte a volte si perde un po' via ecco si perde un po' via quindi serve che lui si autoaiuti e è 1,91 se ci si investe che lo si schieri che si creda in lui e sono d'accordo con te perché è vero bello che hai preso Loftus Cic cioè nel senso hai preso prenderesti Loftus Cic qualcosina mancherebbe secondo me mancherebbe in termini di qualità soprattutto se al netto dell'infortuna di Benasera ti direi magari ci puoi anche stare a questo punto ma senza Isma praticamente per gran parte dell'anno prossimo e no purtroppo non basta più che altro proprio perché ci serve a questo punto un centrocampista di piede perché fisicamente vai a riempire la casella con Loftus Cic che è un bel giocatore fisico niente di discreta tecnica niente di eccezionale cioè non è non è un fine palleggiatore però il suo il suo mestiere a safari ha dei piedi buoni però a centrocampo ti serve un po' più di qualità ecco soprattutto quest'anno la qualità e la fisicità è mancata è un giocatore come abbiamo spesso detto che ci sta la grande in un centrocampo del Milan e ci sta come hai detto tu in un centrocampo italiano tra l'altro se vedete sono 96 96 sì sono due giocatori già fatti e finiti pronti domani mattina possono andare in campo non devi svezzarli non devi capire il ruolo non devi aspettare che vedano cosa sia San Siro eccetera sono giocatori che hanno già giocato partite importanti tra finali di coppa super coppa per quanto riguarda Kamada Roftoschik ha fatto la premia le compagnie cantante quindi sono già giocatori fatti e finiti ecco altra cosa che a noi serve sono nel giro da un po' Kamada ha giocato in Europa League una finale cioè sono giocatori che sono abituati a certi tipi di palcoscenici poi il Milan è sempre un'altra cosa perché passi dal line track di Francoforte al Milan cioè stiamo parlando di Bruscolini e quindi il Milan è sempre un'altra roba però però è diverso comprare Kamada che andrà a comprare il 19enne che venne fuori dalla Ligan e che ha fatto nuove presenze al Nantes per dire assolutamente sì non che bisogna adesso rinunciarvi a quel tipo di acquisto assolutamente la V di mezzo come al solito caro Aereo a proposito di V di mezzo noi siamo arrivati quasi in chiusura ma c'è il campionato quindi tra mercato e il campionato il campionato è lì bisogna vincere contro la Samp che verrà qui a fare un'onesta partita è bello che speri di vincere contro la Samp cosa vuoi fare spero di pareggiare no spero di vincere con la Samp spero di passare un sabato sera tranquillo e non intossicarmelo per la minima volta perché pensi di passare un sabato sera tranquillo tu sì spero spero anche di vedere l'off to see che cammada in Champions League e non con la fantastica sigletta che ho sentito ieri sera dell'Europa League ecco questa è cosa spero spero in tutto questo caro Henry direttore ciao mi raccomando mettete like iscrivetevi al canale diteci la vostra nei commenti e niente insomma attivate la campanella per tutte le notifiche il like l'ho già detto l'iscrizione l'ho già detta quindi niente ciao ci ritroviamo tra poco ciao ciao mai senza monge natural super premium le crocchette medivitali con prebiotici e la carne come primo ingrediente monge il pet food che parla chiaro